Io ringrazio tutti quelli che non sono membri dell'Assemblea, che hanno avuto più curiosità e cura di tanti altri che oggi sarebbero dovuti stare qui e che sono venuti a sentire cosa di qui, a vere e mezzo degli determinati. Questo io lo trovo già un segnale tangibile da dove ce ne dovessero essere ancora altri dello stato del nostro partito. Ma qualcosa mi addolora, come addolora Benanzio Carpettieri che è il segretario provinciale di questa comunità. E però, prendiamo atto, io credo che adesso forzare la mano in un senso o nell'altro e me ne assumo la responsabilità sarebbe sbagliato perché io non voglio vedere scorrere il sangue dei compagni e degli amici in senso metaforio. Però scusatemi, se mi danno nazionale vuole venire con Danciapriamo, io voglio forza fare la citazione, lo sai. Cioè mi pare anche, concedetemelo. E ciascuno sceglie l'alba. Il Danciapriamo, come ha detto, è pericoloso per chi lo usa più che per chi subisce. Quindi io non uso il Danciapriamo.